Sono Zibaldo, l'unica app completa di tanti servizi di pagamento. Scaricami, sono gratis. Zibaldo, come me non c'è nessuno. Sono contento che giochiamo subito. Se no i risvegli mattutini non sono buoni, non sono di buono stato d'animo. Allora giocare subito, abbiamo subito un'altra possibilità di far bene, di vincere. E quindi meglio giocare subito. Chi gioca, gioca. Abbiamo grande voglia di riscatto da una partita giocata bene e non vinta. E quindi per me è indifferente chi gioca. Sono convinto che la squadra avrà la mentalità giusta. Non è un problema di chi gioca, sarà un discorso di atteggiamento mentale, ma sono sicuro che avremo il giusto atteggiamento. Il cambio dell'allenatore da una partita, credo che il loro atteggiamento sia un po' diverso dall'allenatore precedente. Credo che per strategia e per modo di intendere il calcio del nuovo allenatore troveremo una squadra un po' più aperta, un po' più offensiva, che cercherà un po' di più di fare la partita. Sono convinto. Come non usciamo? Non usciamo con la vittoria che dobbiamo ricercare. Credo che la nostra concentrazione, per non avere troppe pressioni, debba rimanere sul nostro processo di crescita e sul fatto che dobbiamo migliorare, prestazione dopo prestazione. I risultati fanno la differenza. La squadra sta proponendo un bel calcio. Io credo che con così tanti giovani in campo il potenziale della squadra sia un potenziale di una squadra che se le gioca le partite. Sono stati spesso e volentieri gli episodi che hanno fatto la differenza. Capire come spostare questi episodi verso la vittoria è tanto, perché nel calcio sono i centimetri che fanno la differenza quando le partite sono equilibrate. Noi dobbiamo continuare a dare queste prestazioni, come quella che stiamo facendo nell'ultimo mese, e continuare a lavorare sui dettagli, continuare a lavorare quotidianamente per tornare alla vittoria. Io sono convinto che basta una vittoria importante per far tornare tutta la normalità.